Un paradiso degli sportivi nell'alta Savoia francese. Siamo Hottin, in Val d'Isère, a 2100 metri d'altezza, considerato come il comprensorio turistico più indicato per gli sport addict, per chi cioè, anche in vacanza, vuole dedicarsi ad attività sportive. E qui la scelta è molto ampia, tra il bike park, che permette di buttarsi a capofitto con una mountain bike sulle discese, che in inverno sono pizze da sci, e tutta la gamba di sport acquatici che vengono organizzati nelle fredde acque del suo lago alpino, considerato come la più alta base nautica d'Europa. Per chi invece non può fare a meno dello sci, il ghiacciaio è aperto anche d'estate. Qui vengono in ritiro anche le più blasonate squadre di rugby francese.